Benvenuti ragazzi in questa playlist sulla minicar elettrica che sta entusiasmando molti di voi sia a livello culturale se non ce l'hanno ma se hanno questa macchinina a livello anche pratico perché stiamo vedendo tante piccole situazioni modifiche anche sostanziali a volte come la batteria che soddisfano che piacciono ebbene continuiamo tutte le playlist che vedete pian piano ogni tanto vanno avanti introducendo nuovi video le minicar sono di solito 48 volt però hanno anche non tutte ma hanno anche la maggior parte delle vecchie tipo la mia che è del 2012 hanno una componente 12 volt ovvero dalla 48 volt c'è un dispositivo che è questo che è null'altro che un DC DC charger questo da 48 volt l'ho aperto per farvi vedere anche l'interno ci sono dei toroidi ci sono dei mosfet ci sono due condensatori ebbene questo alla caratteristica serve a trasformare la 48 volt in 12 volt e la corrente che questo andrà a modificare entra direttamente in una batteria quindi le minicar hanno la 48 volt e la 12 volt per la gestione totale della macchinina ovvero fari tergicristalli le pompe dei tergicristalli insomma tutte quelle cosette il clacson le luci che vanno a 12 volt questa è una cosa positiva ma qual è la cosa negativa che avete a bordo questa batteria che non dura più di 6 mesi se pigliate quelle più sofisticate anche quelle AGM piccoline che costano un botto parliamo di batterie da 20 ampere adesso non voglio farvi vedere la marca questa è una 12 questa mi sembra una 18 questa è una 14 ebbene 14 ampere appena l'ha installato è tutto perfetto dopo 6 mesi ciao partita è rimasta anche ferma e quindi è andata in solfatazione come potete ben vedere oggi vedremo proprio la sostituzione della batteria per far lavorare direttamente tutta l'auto con la batteria primaria da 48 volt iscrivetevi a questo canale se è vostro piacere e ci vediamo fra pochi secondi buona visione ebbene l'abbiamo detto all'inizio di questo video le mini car hanno la batteria primaria che siano 4 piombo come di solito hanno con un'autonomia che si aggira intorno ai 70 km piuttosto che modificate con le litio la cui autonomia è molto di più ebbene hanno la fase 12 volt che serve a far andare tutta la macchina questo avviene attraverso una batteria che viene caricata da questo dcdc charger da 48 a 12 volt bene ragazzi detto questo faremo una trasformazione perché perché le batterie al piombo hanno una caratteristica che devono essere mantenute costantemente cariche altrimenti inizia il processo di solfatazione ebbene se noi abbiamo una mini car in garage ed è inverno vogliamo usarla poco ci obbliga a questo lasciare sempre sotto carica quella da 48 volt che va poi a caricare quella da 12 volt attraverso il dcdc charger oppure come alcuni fanno anch'io a mantenere sempre costantemente la 12 volt caricata con un mantenitore ebbene questo comunque a lungo andare è un processo che stanca comunque le batterie e si solfatano si solfatano anche perché non hanno questi dispositivi questi questi dcdc charger non hanno l'equalizzazione che le deve portare ogni tanto a far bollire leggermente le batterie in modo da iniziare il processo di desolfatazione e di equalizzazione che ritrasforma il solfato di piombo in acido solforico ebbene mancando questo ovviamente c'è un disinteresse totale alla cosa mancando questo ho deciso di fare questa modifica praticamente adesso vi farò vedere gli elementi semplicissimi un elemento semplicissimo andiamo a utilizzare uno step down cioè un trasformatore che da 48 volt trasforma a 12 che serve a trasformare la corrente da 48 volt a 12 volt ed essere utilizzata direttamente dalla minicar in questo modo non dobbiamo perdere energia caricando le batterie al piombo che vi ricordo che hanno un'efficienza intorno al 60% ma andiamo a utilizzare le nostre litio esattamente quando ci serve ovvero quando accendiamo la nostra minicar vediamo quali sono tutti i comportamenti i prodotti utilizzati come vanno montati in modo da ottimizzare la nostra minicar dandogli più energia perché non viene sprecata attraverso il passaggio dopo il passaggio alle piombo e carenza di efficienza ma nel contempo gli diamo anche una potenza superiore perché quando la piombo si va a consumare a scaricare comincia a non avere più una tensione di 12, qualcosa volt e quindi succede che lo capite subito dal tergicristallo che comincia a faticare per andare avanti e indietro ebbene adesso avvicinarò la telecamera per farvi vedere quali sono i prodotti specifici bene il prodotto che ho eliminato è proprio questo ve lo faccio vedere anche da vicino ragazzi non era neanche male prodotti un po' economici però questa resinatura che vedete in verde questo bicomponente che viene buttato dentro hanno lasciato libero questo che è il regolatore di tensione dissipato anche bene con questa avetta insomma però ragazzi non è possibile allora togliamo questo che serviva a caricare la batteria al piombo che vi faccio vedere ampiamente solfatata lo vedete qua nelle zone vedete le celle una due tre cioè proprio brutta brutta solfatata oramai da buttare a questo punto ecco l'apparecchio che volevo mostrarvi questo questo qui è fondamentalmente un trasformatore qui vedete le caratteristiche ve lo giro al contrario ovviamente questo è dc dc converter ovvero l'input è 36 volt 48 volt e quindi va benissimo fino a 55 56 volt non ha nessun problema e l'uscita è 12 volt 20 ampere attenzione ve lo zoom un attimo perché questo è un fattore molto importante perché ci sono diverse taglie questo è 20 ampere ci sono da 10 da 5 io ho preso questo perché quello sufficiente per me ovvero con 20 ampere a 12 volt abbiamo circa 250 watt ebbene 250 watt sono sufficienti per far andare tutta la minicar perché ovviamente dobbiamo soddisfare quelli che sono i consumi questo è dissipa ovvero a questo dispositivo inglobato anche lui è resinato ovviamente però ragazzi non c'è l'alternativa su questo e lo ripeto quando sono costretto lo devo comprare se no no perché che debbano resinare quando per ripararvi io spenderei un euro è una cosa che a me dà veramente fastidio comunque c'è una bella letta di alluminio che serve a dissipare questo nel caso siate in continua su 250 watt circa quindi veramente abbondante perché in un auto andare in una mini car andare a consumare tutti questi watt è pressoché impossibile ma lo vedremo nel proseguo di questi video in base alle modifiche da fare ecco che quindi attraverso questo apparecchietto questo converter questo dcdc charger chiamatelo come volete riusciamo a soddisfare il fabbisogno della macchinina meglio essere abbondanti in modo che non scalderà troppo ha un piccolo consumo di corrente ma è solamente diciamo effettivo quando accendete la macchina e quindi vi ricordo che la batteria 48 volt primaria non va collegata direttamente a questo apparecchio che consumerebbe sempre un pochino costantemente come originariamente non era collegato a questo apparecchio che consumerebbe anche lui allora che cosa si fa semplice bisogna far passare il polo negativo direttamente a tutta la macchina il positivo viene interrotto dal quadro quindi solo quando accendiamo la macchinina la mini car che sia poi qualsiasi altra cosa ragazzi solo quando accendiamo la batteria primaria e la mini car la corrente fluisce dalla 48 volt in tutta l'auto e quindi anche il motore si attiva con il suo acceleratore elettronico si attiva questo dispositivo e andiamo utilizzare quello che vogliamo il momento in cui spegniamo la mini car si spegne tutto e quindi il consumo va a zero questo è importante quindi valutate le potenze come si fa semplice dovete fare la somma dei watt o la somma degli ampere che la vostra mini car assorbe di solito sono le quattro luci di posizione le due piccole lampadine che io anche lì ho potenziato con delle led che consumano poco però picchiano forse l'avete visto nel video numero uno ve le farò vedere comunque nei prossimi video e quindi le due luci davanti gli abbaglianti poi se avete gli abbaglianti se avete anche le luci di profondità come io vorrò posizionare c'è ci sono gli stop c'è se l'avete la luce della retro la mia non ce l'ha perché comunque targa motorino non ce l'ha c'è la lucina che illumina la targa c'è il tergicristallo c'è il tergicristallo con la pompetta dell'acqua che spinge l'acqua per lavare i tergi insomma dove il clacson va beh quello è solamente un input però anche lui un suo consumo potrebbe nel momento in cui utilizzate i tergicristalli se usate il clacson che io ho cambiato vi faccio vedere quale utilizzato perché mi sono assentato un attimo dalla telecamera per farvi vedere quello che ho comprato sempre 12 volt ma che è completamente diverso da quello di serie che faceva gigit questo invece è una tromba questo con la macchina quando passi pam eccetera vi ricordo sempre che se fate modifiche dovete prima verificare il libretto la motorizzazione per andare a vedere se quello che state facendo è in linea con il comportamento permesso sul vostro mezzo specifico ecco che tutte le modifiche che vado a fare sono prima state verificate entro i limiti vi ricordo anche che la legge adesso è migliorata è cambiata si è ammorbidita e quindi adesso si possono andare a sostituire alcune cose basta che siano omologate questi sono dati importanti per evitare di farvi prendere qualche multa ragazzi adesso andiamo nella macchinina e vediamo un attimo le connessioni molto semplici dopodiché faremo un piccolo test di differenza anzi lo faccio subito perché quando ho montato c'è l'ufficiale vi faccio vedere con la batteria come si comporta e poi come si comporta invece con il cambiamento che è stato fatto questo potenziamento e soprattutto questa diretta nell'utilizzo della 48 volt a 12 volt meccanismi buona visione ebbene qui è posizionata la batteria col suo carico vedete qui c'è la connessione alla 48 questo trasforma in 12 carica e alimenta tutta la mini car ebbene adesso ragazzi io accenderò il tergicristallo guardate cosa succede vedete funziona perfettamente adesso guardate se accendo lo spruzzatore vedete e guardate se invece schiaccio il pedale dello stop basta si è praticamente inchiodato lascio il pedale dello sport dello stop scusate rischiaccio cioè l'energia non è sufficiente perché questo perché la batteria ovviamente è consumata vediamo adesso la stessa reazione invece con il la modifica che ho fatto attraverso questo step down ed ecco il dispositivo ovviamente messo in maniera provvisoria piccolino giusto per fare il test poi ovviamente sarà fissato in una parte nascosta del del cruscotto per funzionare correttamente adesso salgo in macchina e facciamo una prova direttamente col telgicristallo e vediamo che funziona perfettamente vediamo adesso il motore che spruzza l'acqua tranquillamente senza problemi accendiamo anche la ventola minima potenza massima potenza della ventola schiacciamo in contemporanea il freno ragazzi non si sposta di un millimetro ovvero riesce a reggere tutti i watt ragazzi è tutto anche per questo video se vi è piaciuto mettete un like ma soprattutto iscrivetevi a questo canale per non perdere tutti i video di queste belle playlist ragazzi buona visione ancora una volta e buona serata grazie a tutti